fuori Mignani dentro Marino questa la decisione della società bianco rossa che nelle scorse ore ha esonerato Michele Mignani dando la panchina a Pasquale Marino ciao Giuseppe entro subito nel nel dunque era giusto è stato giusto esonerare mister Mignani ciao Andrea ciao a tutti eh sì come scrivevo anche ieri è giusta eh la soluzione dell'esonero perché comunque l'ambiente ha bisogno di una scossa e l'atmosfera era pesante diventata sempre più pesante ma diciamo che il sostituto è quello che lascia un pochino interdetti visto la sua lontananza dalla panchina che perdura ormai da un paio di stagioni io sono sono rimasto un po' perplesso invece sulla decisione della società bianco rossa non fosse altro eh perché ritengo che mister Mignani eh che paga e inizio di campionato certamente non è non esaltante eh abbia dalla sua diverse tante forse attenuanti come quella legata al calcio mercato della scorsa estate che ha visto la squadra che ha sfiorato la serie A con mister Mignani in panchina eh essere di fatto smembrata con le cessioni eccellenti dei pezzi pregiati e con l'arrivo a Bari di giocatori che al momento non hanno dimostrato di essere all'altezza della eh situazione un mister Mignani che evidentemente paga eh colpe anche non eh sue come quelle che a cui facevo riferimento eh del direttore sportivo legate al mercato e alla stessa società che ne pensi? Beh Andrea sinceramente ovviamente non vorrei cadere nel qualunquismo ma eh è sempre così e l'allenatore è quello che paga io credo che eh siamo tutti eh almeno dal punto di vista eh umano dispiaciuti per l'esonero del mister perché comunque un magari non c'entrerà granché ma eh una brava persona che il suo lavoro l'ha fatto in mezzo a qualche errore ma il problema è a monte e ovviamente nasce all'indomani dell'undici giugno mh sicuramente la società ha molte più responsabilità eh l'abbiamo detto più volte e questa volta lo stesso Polito probabilmente dopo due anni di ehm in cui ha dimostrato probabilmente una sorta di superpotere del come direttore sportivo quest'anno invece ha colpevoli eh ha fatto colpevoli errori che si stanno ritorcendo adesso e siamo appena la nona di campionato quindi sicuramente la società è molto ma molto ma molto più responsabile del mister sono d'accordo con te il mister paga come appunto proponevo le le colpe anche anche non sue perché quello che è successo la scorsa estate sotto gli occhi di tutti la cessione di elementi importantissimi elementi cardine di quella che è stata la formazione che ha divertito in un certo senso un po' tutti la scorsa la scorsa stagione è un mercato gestito in maniera discutibile perché se sul valore di determinati singoli eh c'è poco da discutere è anche vero che questi singoli questi nuovi innesti sono arrivati alla spicciolata e sono arrivati addirittura ad inizio eh al campionato già già iniziato e il tutto non ha certamente aiutato mister Mignani a mettere in piedi una formazione eh pronta al appunto al campionato che 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 si sta si sta disputando un mister Mignani che eh come dicevo si è visto di fatto privare dei suoi pezzi migliori e che non ha avuto probabilmente tempo per lavorare con i nuovi Marino la la nuova guida di questa squadra inevitabile chiederti e chiedere un po' a a tutti se questa rappresenta oggi la scelta più opportuna. Andrea credo che non ci sia nessuno sereno dopo questa scelta perché mister Marino è stato sicuramente un ottimo tecnico ormai quasi una decade fa eh il problema non è che ha girato l'Italia è probabilmente dire ha collezionato i soneri eh non è è propriamente sbagliato il problema è che manca dalla panchina dal duemilaventuno sono due anni due anni sono veramente tanti ehm quindi io sono un po' eh scettico su questa scelta eh sappiamo tutti che però è stato scelto perché è stato un mister del di Ciro Polito per cui si sa che il nostro direttore sportivo ama lavorare con chi già conosce o con cui comunque ha avuto tempo di conoscersi quindi purtroppo il binomio Mignani Polito non esiste più spero che questa intuizione sia quella giusta siamo all'inizio del campionato eh abbiamo bisogno di questa benedetta scintilla ecco se fosse di peso da me sicuramente non avrei pensato minimamente a Pasquale Marino sinceramente Pasquale Marino che come ricordavi ha allenato Ciro Polito ai tempi del del Cattania un Marino scelto probabilmente per quelle che sono le sue caratteristiche tecniche tattiche lo ricordiamo come eh un assiduo eh mentore del quattro tre tre uno schema eh di gioco che dovrebbe in qualche modo privilegiare i tanti esterni presenti in rosa ecco perché una delle domande che mi sto facendo io in queste ore perché ci sono tutti questi esterni in rosa mi spiego meglio se mister Mignani lo abbiamo imparato a conoscere in questi anni ha sempre dimostrato ehm di essere un attimino restio a giocare con con questo tipo di schieramento nonostante Polito sin dalla Serie C ricorderai il ritorno di Galano su tutti ha sempre tentato di mettere a disposizione ehm a mister Mignani tutti questi esterni che eh lo stesso tecnico ha avuto un po' di eh difficoltà diciamo così a gestire perché piuttosto che comprare quattro esterni ecco Polito non si è preoccupato la società non si è preoccupata di acquistare un attaccante magari in più e permettere allo stesso Mignani di giocare eh come meglio eh come meglio ha dimostrato di saper fare in questi anni sono tutte domande che ovviamente andrebbero rivolte a chi di dovere mi auguro di risentire presto chi di dovere perché se oggi Mignani paga per tutti è anche eh giusto come stiamo facendo e come hanno fatto un po' tutti puntare il dito verso le altre componenti della società che mi piacerebbe riascoltare perché a a ad appena un mese di eh distanza dalla dall'ultima conferenza di Ciro Polito sembra cambiato tutto qui a Bari Giuseppe. Sì Andrea in realtà eh Aurelio De Laurentiis che comunque presidente non è il nostro presidente non è stamattina era ehm a Roma in un'università che lo ospitava in realtà ha rilasciato una mezza dichiarazione nella quale diceva quanto fossero scelte che fanno male al cuore quando tu eh esoneri un allenatore considerando che contemporaneamente anche da quelle parti si stanno vivendo momenti difficili eh diciamo non sono queste le dichiarazioni che ci aspetteremmo ora domani c'è l'inaugura la la conferenza stampa di presentazione del mister eh io spero che non sarà mandato da solo mh davanti ai giornalisti non peraltro perché ovviamente è l'occasione giusta per sentire quanto meno Ciro Polito eh io eh sono di quelli che pur di non sentire le solite litanie le solite ehm risposte imparate a memoria preferirei a questo punto sentire un po' mh il mister come intende fare come intende giocare anche se appena stamattina ha condotto il primo allenamento se poi Polito ci degnerà almeno lui di conferenze stampe in cui magari è un po' più sincero come comunque ne ha rilasciate negli anni passati allora effettivamente questa conferenza potrebbe avere un significato più 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 grande altrimenti come sempre dico non vedo l'ora che ci sia la partita anche se questa volta dovremo aspettare più di dieci giorni ma alla fine la scelta del mister nuovo è stata fatta anche per questa pausa quindi la scelta del nuovo la scelta del nuovo mister è stata fatta esclusivamente poi magari verremo smentiti ma non credo dal direttore sportivo Polito che eh si assume si è assunto di fatto la responsabilità di questo avvicinamento in panchina eh io più che sentire risentire Polito vorrei ecco sentire risentire anche il presidente dell'Aurentis e non Aurelio che eh che insomma che col Bari al di là della proprietà ecco ha poco a che fare ma mi 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 piacerebbe risentire Luigi dell'Aurentis perché se Mignani oggi paga per tutti eh mi sembra doveroso un atto anche di responsabilità da parte degli altri componenti ovvero Polito ma ripeto soprattutto il presidente Luigi dell'Aurentis dire raccontare rispiegare lì dove ce ne sia bisogno eh quelle che sono le intenzioni di questa società quelli che sono gli obiettivi di questo club perché non mi sembra davvero giusto e opportuno ehm far passare Mignani per colpevole e mentre eh mentre magari la la stessa società e ripeto anche lo stesso direttore direttore sportivo magari solo vittime nella circostanza assolutamente non credo che sia che sia così quindi mi auguro di vedere magari anche il presidente dell'Aurentis non credo ci sarà ma mi auguro di vedere il presidente Luigi dell'Aurentis proprio perché ritengo che in un momento così delicato sportivamente non per questa squadra per questa città il presidente presidente debba assumersi le sue responsabilità tornare davanti ai microfoni e spiegare raccontare e dire quello che davvero lui e la sua famiglia hanno in mente di fare qui a Bari Giuseppe il tempo ci saprà raccontare certamente di più a Pasquale Marino un grossissimo in bocca al lupo a Michele Mignani con un pizzico di pelle d'oca un grandissimo abbraccio. Certo d'accordissimo direttore sono d'accordo su tutto. Ti ringrazio Giuseppe come sempre grazie per questo botta e risposta torneremo certamente prestissimo per seguire e raccontare e discutere su quelli che sono i primi passi saranno i primi passi di mister Marino sulla panchina del Bari. Ciao. Ciao.